Siterà domani, mercoledì 6 giugno alle ore 18, presso il punto vendita a Viltrinelli Red di Piazza della Repubblica a Firenze, l'evento di presentazione del DVD del film Ti Proteggerò, del regista Daniele Di Stefano. Vincitore del premio della giuria del 71esimo Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il film, distribuito in Italia da Cechigori Entertainment, è un thriller che tocca molte tematiche sensibili, come la pedofilia, la corruzione, la violenza sulle donne e non solo. Il giovane avvocato Riccardo Gaeta, protagonista del film, prende le difese del senatore Palminiello, corrotto e potente uomo politico, nonché principale indagato nello stupro e omicidio di una bambina. L'incontro con la giornalista Giulia e l'arrivo di alcune misteriose lettere catapulteranno poi il protagonista in un vortice nel quale niente è come sembra, portandolo a una profonda crisi di coscienza. Ricordiamo infine che all'evento di presentazione saranno presenti, oltre al regista Daniele Di Stefano, anche gli attori del cast.